Il DJI 2S può filmare ad una risoluzione di 4K fino a 60 fotogrammi al secondo e questa è una delle nuove funzionalità più importanti di questo drone rispetto ad altri modelli della gamma Mavic. Fino ad ora il Phantom 4 Pro era l'unico drone DJI Prosumer capace di raggiungere questa frequenza di fotogrammi a 4K. In questo video mostrerò come il rallentato può rendere i vostri filmati molto più interessanti in moltissime situazioni e come utilizzare al meglio la più alta frequenza di fotogrammi dell'Air 2S per ottenere un rallentato di ottima qualità. Quando si riprendono scene da lontano come spesso è il caso quando si utilizzano droni il rallentato non è molto utile soprattutto se non ci sono elementi in movimento. Ma quando la scena contiene movimento possiamo renderla molto più interessante rallentando l'azione. Avvicinandosi all'azione il rallentato diventa ancora più importante per raggiungere emozione ad una scena. Direi quasi pathos. Vi faccio vedere alcuni esempi di filmati in rallentato ma prima che qualcuno chiami la polizia dei droni notare che alcune scene sono state filmate con una videocamera tradizionale e non con un drone. di nuovo popolizia di investo di tanti che non sono stati di studiatri ne Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spesso mi viene chiesto se non è possibile semplicemente rallentare il filmato durante l'edizione senza tenere conto di questa complicata frequenza dei fotogrammi. In realtà è possibile accelerare i filmati durante l'edizione senza perdita di qualità, ma allo stesso non è vero quando si rallenta. Puoi vedere come un rallentato ripreso a 60 fotogrammi al secondo e poi convertito a 24 durante il montaggio dia risultati nettamente migliori rispetto a quest'altro filmato ripreso a 24 e semplicemente rallentato durante l'edizione. Le frequenze più utilizzate sono 24, 25 o 30 fotogrammi al secondo. Io utilizzo 24, che in realtà sarebbe 23,976. Un esempio molto semplice. Abbiamo 4 secondi di filmato ripreso a 24 fotogrammi al secondo. Quindi un totale di 24 per 4 secondi uguale 96 fotogrammi. Se vogliamo raddoppiare la velocità abbiamo bisogno di 2 secondi di filmato, sempre a 24 fotogrammi al secondo. Quindi 48 fotogrammi in tutto. Abbiamo il doppio dei fotogrammi necessari. Il software deve semplicemente eliminarne la metà e conservare soltanto quelli necessari, mantenendo la stessa qualità del filmato. Se vogliamo moltiplicare la velocità per 4, avremo un filmato di un solo secondo, e quindi ci serviranno soltanto 24 fotogrammi. Basterà eliminarne 3 su 4. Ma se vogliamo rallentare il nostro filmato di 4 secondi, dimezzando la velocità, arriveremo a 8 secondi, sempre a 24 fotogrammi al secondo. Quindi saranno necessari 192 fotogrammi, mentre ne abbiamo soltanto 96. Quindi in qualche modo il software dovrà creare dei fotogrammi, il che causa una perdita di qualità, qualunque metodo si utilizzi. Per rallentare un filmato bisogna iniziare con una quantità maggiore di fotogrammi. Nel nostro esempio, se partiamo da un filmato di 4 secondi, ripreso questa volta a 48 fotogrammi al secondo, cioè il doppio di 24, avremo un totale di 192 fotogrammi. Se rallentiamo il filmato di 50%, ci ritroviamo con un filmato di 8 secondi. Poiché la frequenza del progetto è di 24, avremo bisogno di 24 fotogrammi per 8 secondi. Quindi 192 fotogrammi. Siamo fortunati perché abbiamo esattamente il numero necessario. I migliori risultati si ottengono utilizzando una frequenza che sia un multiplo di quella utilizzata nel progetto, in maniera che tutti i fotogrammi saranno utilizzati. Ma è anche possibile utilizzare altre frequenze. Ad esempio è possibile riprendere a 30 fotogrammi al secondo in un progetto a 24, in maniera di ottenere un leggero effetto rallentato del 20%, che è spesso parecchio interessante. Ma il software deve eliminare un fotogrammo ogni 5, il che può provocare leggerissime imperfezioni nel filmato, ma il risultato è comunque più che sufficiente per utilizzi non professionali e può essere ulteriormente migliorato in post-produzione. Possiamo anche utilizzare una frequenza di 60 fotogrammi al secondo per un rallentato di 60%. In questo caso alcuni fotogrammi saranno nuovamente eliminati. Con l'Air 2S in modalità slow motion abbiamo anche accesso a 120 fotogrammi al secondo ad una risoluzione di 1080, per un filmato rallentato 5 volte, senza eliminazione di fotogrammi. Alla risoluzione di 4K l'Air 2S può filmare le seguenti frequenze 24, 25, 30, 48, 50 e 60 fotogrammi al secondo. Le stesse frequenze saranno disponibili anche a 2,7K e a 1080. Se scegliamo l'opzione slow motion nel menu video possiamo ottenere 120 fotogrammi al secondo a 1080 per un rallentato estremo. Notare come con frequenze superiori a 30 fotogrammi al secondo l'angolo visivo del formato è considerabilmente ridotto. Alcuni utilizzatori si sono lamentati, ma io lo vedo con un elemento positivo. Quando faccio riprese rallentate, in genere voglio essere vicino all'azione. Quindi questo crop è utile per avvicinarsi ulteriormente. Purtroppo ci sono alcuni limiti nell'utilizzo di frequenze superiori a 30 fotogrammi al secondo. Il rallentato è in genere molto utile quando si segue un soggetto in movimento, ma le modalità di volo intelligenti sono disponibili soltanto fino a 30 fotogrammi al secondo, compresi Action Track e Spotlight, le due più utili per il tracking. L'A2S ha eccellenti capacità di zoom, ma alla risoluzione di 4K con frequenze superiori a 30 fotogrammi al secondo, lo zoom sfortunatamente non è disponibile. Spero che queste limitazioni saranno risolte da aggiornamenti del firmware. La procedura per ottenere slow motion da frequenze più elevate è abbastanza semplice ed è più o meno uguale in tutti gli editori video. Qui mostrerò come procedere in Premiere Pro, uno dei più utilizzati. Farò vedere due metodi diversi per essere sicuro che il vostro editore video disponga di almeno uno dei due. Dopo aver aggiunto il primo firmato nel timeline, scegliamo la frequenza di fotogrammi del nostro progetto andando nel menu Sequence, quindi Sequence Settings, e in alto scegliamo come time base 23,976 fotogrammi al secondo. Se il clip inserito è stato filmato a 48 fotogrammi al secondo, quindi il doppio della frequenza del nostro progetto, come potete vedere, scorre a velocità normale. Dobbiamo rallentarlo e portarlo ad una velocità dimezzata e ci sono due modi per realizzare questo. Un metodo è andare sull'icona del clip nella finestra in basso a sinistra, cliccare a destra e scegliere Modify, e quindi Interpret Footage. Quindi nella finestra in alto andiamo su Assume This Frame Rate ed entriamo il valore 23,976. Possiamo notare che adesso il filmato è a velocità dimezzata, poiché 48 fotogrammi sono interpretati a 24 fotogrammi al secondo, il che è esattamente la metà. Da notare che la frequenza originale del clip è mantenuta in memoria e può essere ripristinata se necessario. Questo è utile quando si lavora in un progetto con molti file a diverse frequenze. E' anche possibile modificare diversi clip contemporaneamente, selezionandoli prima di utilizzare la stessa procedura. Un altro metodo consiste semplicemente nel cliccare a destra sull'icona del clip nel timeline e scegliere Speed Duration. In questa finestra possiamo inserire la velocità desiderata. In questo caso abbiamo un clip di 48 fotogrammi al secondo e vogliamo dimezzare la velocità, quindi entriamo 50%. Da notare che la durata del clip indicata in basso raddoppia. Quando utilizziamo questo secondo metodo dobbiamo entrare il corretto valore di riduzione della velocità in funzione della frequenza alla quale il filmato è stato ripreso. Se lavoriamo su un progetto a 24 fotogrammi al secondo, se il clip è stato ripreso a 30, dobbiamo entrare in un valore di 80%. Per un file ripreso a 48 fotogrammi dobbiamo entrare 50%. Per uno a 60, 40%. Da notare che per riprese in modalità slow motion, quindi a 120 fps a 1080, il file è automaticamente interpretato e non abbiamo bisogno di ridurre la velocità. Cliccate su questo link per vedere il mio video sui miei movimenti preferiti col drone. Se avete trovato il video interessante non dimenticate di cliccare sul like. Aiuta molto il canale. Grazie e a presto. Grazie.